L'aviatore asso del cielo Francesco Baracca e il suo famosissimo cavallino, lo stemma, suo emblema, diventato famoso. Ma quali sono le origini di questo cavallino? La storia è molto più interessante di quello che possa sembrare. C'è di mezzo il cavallino Ferrari, il cavallino Porsche, ma andiamo con ordine quindi. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video che nasce da uno short che ho registrato nella base militare di pratica di mare in occasione del centenario di aeronautica militare. Vi ho pubblicato quello short qua su YouTube e dalle 250.000 persone che l'hanno visto in questi pochi giorni è nato un accesso di battito nei commenti sulle origini del cavallino. E allora siamo qua per fugare ogni dubbio con questo video in orizzontale dove c'è più tempo per parlare, per spiegare le cose, per approfondire le teorie. Allora, partiamo da dire che l'aereo alle mie spalle, mentre facevo questo reel, è la replica di uno Spad 8 con la livrea, appunto, di Francesco Baracca, il famosissimo asso dell'aria italiano della Prima Guerra Mondiale. Lui, ecco, questa è una sua foto originale. Il dilemma di questo video è, da dove arriva questo cavallino? È lo stesso di Ferrari? È lo stesso di Porsche? Per non tenervi troppo sulle spine, sì, è quello di Ferrari e questa è l'unica certezza. Da dove arriva esattamente non si sa veramente, ma ci sono molte teorie, alcune più accreditate di altre. Ma andiamo con ordine, partiamo dalla vita di Francesco Baracca, già da prima di diventare un asso dell'aviazione, e procediamo in ordine cronologico e vedremo che dei cavallini ne troviamo molti, ma solo uno è quello giusto. Francesco Baracca nasce nel 1888, a Lugo, da Enrico Baracca e Paolina De Biancoli. Il padre era un uomo d'affari e proprietario terriero, mentre la madre era una contessa. Questo era lo stemma araldico della famiglia Baracca e vedete che già qui troviamo il primo di una serie di cavallini rampanti, ma teniamolo un attimo da parte e andiamo oltre. Francesco studia nella città natale e poi a Firenze e infine sceglie per la propria vita una carriera militare. Nel 1907 fu ammesso a Modena e due anni dopo ne uscì come sottotenente dell'arma di cavalleria del reggio esercito. Appena uscito nel 1909 frequentò il corso di specializzazione presso la scuola di cavalleria di Pinerolo e venne assegnato al secondo reggimento cavalleria Piemonte Reale. Perché tutto questo noioso spatafio? Perché il reggimento Piemonte Cavalleria era uno dei più antichi reggimenti dell'arma di cavalleria dell'esercito italiano. E indovinate un po' lo stemma di questo reggimento? È esattamente un cavallino rampante argentato su sfondo rosso. E siamo a due. Proseguiamo con la vita. Siamo al 1912 quando Francesco Baracca per la prima volta vede un aeroplano. Si trova a Roma, viene colpito da questo mezzo volante e decide di passare all'aviazione che all'epoca era parte dell'esercito. La sua richiesta venne accettata e iniziò l'addestramento da aviatore in Francia sui caccia Newport 10. Visto lo scoppio della prima guerra mondiale rientra in Italia nel 1915 e entra a far parte della seconda squadriglia di ricognizione e combattimento. Per adesso niente cavallini però voglio raccontarvi un aneddoto della sua prima vittoria aerea. Il 7 aprile 1916, ai comandi di un Newport 11, riuscì a portarsi in coda a un ricognitore Hans Brandenburg, austro-ungarico, che ricevuti 45 colpi fu costretto ad atterrare. L'equipaggio, composto dal sergente Adolf Ott e dal tenente osservatore Franz Lenarchik, ovviamente venne fatto prigioniero, ma Francesco Baracca, tornato a terra, incontrò uno dei due avviatori nemici e gli strinse la mano in segno di rispetto. E infatti una delle sue celebri frasi era, è all'apparecchio che io miro, non all'uomo. Vi ricorda qualcosa? Questa frase è stata ripresa nel film dello studio Ghibli Porco Rosso, sul quale abbiamo fatto un video tempo fa, vi lascio il link qui, è in cui comunque il protagonista non solo spara il motore per non fare morti, ma c'è anche una comparsa dello stesso Francesco Baracca e del suo cavallino. Guardate il film per vederlo, non vi spoilerò oltre. Comunque, stavamo parlando del ricognitore Hans Brandenburg, 45 colpi, costretto ad atterrare e cose varie. Questo non fu solo il primo abbattimento di Francesco Baracca, ma il primo abbattimento in assoluto dell'aviazione italiana. Inutile dirvi tutte le medaglie con cui è stato decorato. Comunque, passa il tempo, passa la guerra, arriviamo al quinto abbattimento di Francesco Baracca. Questo è un numero importante perché il quinto nemico abbattuto all'epoca era proprio la soglia per essere considerato un asso dell'aria. E purtroppo su questo episodio non si hanno molte certezze, ma si pensa che il quinto aereo abbattuto da Francesco Baracca fosse un Aviatik o un Albatros B2, tedesco comunque, probabilmente pilotato da un aviatore di Stoccarda. E una cosa che non vi ho detto è che era usanza, all'epoca, mettere le insegne personali sul lato del proprio aereo. E fino ad adesso Baracca non ne aveva nessuna. E al quinto abbattimento, come segno di rispetto per il pilota nemico abbattuto e per celebrare il fatto di essere diventato un asso dell'aria, alcuni piloti mettevano sul lato del proprio apparecchio proprio il simbolo del quinto pilota nemico abbattuto. E Baracca, come abbiamo visto prima, era fortemente rispettoso verso i colleghi aviatori, anche se erano nemici nello scenario della guerra. Comunque, questo quinto aviatore abbattuto, abbiamo detto prima, molto probabilmente era della città di Stoccarda. E guardate un po' qual è il simbolo della città di Stoccarda. Il nostro terzo cavallino rampante della storia. Qua non se ne esce. Comunque ci fermiamo a tre cavallini, perché se facciamo passare giusto un pochettino di altro tempo nella nostra storia, arriviamo all'ottavo abbattimento di Francesco Baracca, compare un articolo sul resto del Carlino, in cui c'è la prima testimonianza di un cavallo scalpitante sul lato della fusoliera del Newport 17 di Francesco Baracca. Quindi per la prima volta in quel momento sappiamo che un cavallo c'era sul lato del suo aereo. Pochissimo tempo dopo segue anche una foto, il 20 maggio dello stesso anno, dove si vede Baracca al fianco del cavallino nero sul lato del suo aereo. La domanda quindi è, quale dei tre cavallini è questo della foto? Quello dello stemma di famiglia? Quello del secondo reggimento cavalleria? O quello del pilota abbattuto, probabilmente di Stoccarda? E escludiamo subito quello dello stemma di famiglia, perché apposta non ve l'ho specificato prima, ma risale al 1927, quando Vittorio Emanuele III decise di concedere il titolo di conte a Enrico, il padre di Baracca, e quindi è sicuramente postumo, quantomeno a questa foto. Probabilmente hanno messo il cavallo come stemma di famiglia proprio perché già Francesco, il figlio, lo usava come suo simbolo e quindi cose varie. Bene, quindi ne rimangono due. Diciamo che la teoria più accreditata, quella anche ripresa dall'ufficio studi storici di aeronautica militare italiana e cose varie, è quella del reggimento cavalleria piemontese. Se guardate la coda è verso il basso, mentre quello di Stoccarda ha la coda verso l'alto, ma soprattutto sembra che la storia del pilota di Stoccarda sia stata messa in giro anni dopo dal signor Porsche, che lui sì aveva preso il cavallo di Stoccarda, visto che Porsche è proprio della città di Stoccarda. Ma ancora di più è proprio lo stesso Francesco a darci la risposta. Con una lettera inviata alla madre, dove si legge Ti manderò presto la mia fotografia a cavallo e intanto ti invio questa con l'apparecchio e sopra il cavallo, lo stemma del Piemonte Reale. Ora, quindi in un secondo momento probabilmente, abbiamo adottato come distintivo della squadriglia un grifo, simbolo dell'ardire e della ferocia, il leone con la testa di falco. E infatti sullo Spad 8 il cavallino si spostò sul lato sinistro della fusoliera, proprio perché dopo quella famosa foto in cui era a destra, successivamente sul lato destro era stato messo proprio lo stemma della squadriglia, cioè questo grifo. Francesco purtroppo muore nel 1918, lo stesso anno di quella foto, in un combattimento aereo in circostanze un po' misteriose. E ci lascerà per sempre con il dubbio e la certezza di da dove derivi quel cavallino. E la Ferrari in tutto questo ve l'ho nominata a inizio video? Beh, nel 1923, già cinque anni dopo la scomparsa di Francesco Baracca, Enzo Ferrari, dopo aver vinto il primo circuito automobilistico del Savio, conobbe i conti genitori di Francesco. Quindi conobbe anche la contessa, la madre, Paolina, con la quale probabilmente da lì si sono ancora sentiti, o sono rimasti comunque in amicizia, perché lo stesso Enzo Ferrari racconta che un giorno la donna gli consegnò una foto del figlio Francesco accanto al suo aereo, dicendogli, Ferrari, metta sulle sue macchine il cavallino rampante del mio figlio, gli porterà fortuna. Questa almeno è una fonte certa, quindi il cavallino di Baracca è sicuramente lo stesso di Ferrari. Il cavallino quindi, modificato un po' nella posizione della coda, e soprattutto nel colore dello sfondo, che diventa giallo in onore della città di Modena, apparve poi per la prima volta su due Alfa Romeo 8C 2300, mille miglia zagato spider, per la 24 ore di spa, il 9 luglio 1932. Fu poi ridisegnato da vari artisti nel corso del tempo, ma ancora oggi è lo stemma della Ferrari e deriva da un asso dell'aviazione della Prima Guerra Mondiale. Poi il cavallino, oltre che per la Ferrari, è diventato uno dei simboli dell'aeronautica, usato in svariate occasioni, dal quarto stormo fino alla pattuglia acrobatica nazionale, e per un breve periodo non c'entra anche dalla Ducati. E comunque, a quanto pare, non c'entra con il cavallino di Stoccarda, ripreso da Porsche, che poi, forse per accomunare le proprie macchine a quelle della Ferrari, ha messo, a quanto pare, in giro questa storia del fatto che Francesco Baracca avesse preso il cavallino da lì e che quindi il cavallino di Ferrari fosse lo stesso cavallino di Porsche. Per questo video è tutto, pollici in su, iscrivetevi al canale, per non perdervi video interessanti, storici come questo, video in cui voliamo, di short che tanto vi piacciono, soprattutto quando potete litigare sull'origine del cavallino. Per questo video è tutto, ciao a tutti!